Eccoci, siamo sulla ferrata per andare al rifugio Borelli e il mio compagno si è fermato il marco per riporre l'oggetto e adesso gli facciamo una bella ripresa, l'arrampicata su questo piccolo spigolo, ma che ha la sua verticalità, posizioni i moschettoni, eccolo alle prese, questo piccolo diedrino cerca l'appiglio per il piede, poi per la mano eccolo, grande, e ci siamo ecco un sorriso per la stampa, grandissimo questa è l'uscita della scaletta, ovviamente piuttosto verticale siamo comunque in una bella paretina che dà tutta la soddisfazione dell'alpinismo in assoluta sicurezza, attaccati alle catene qui i commenti arrivano in inglese, non so c'è un'uscitina abbastanza aerea Marcos! un passaggino e voilà adesso si va da questa parte qua c'è la finale aterrata con questi incontrati giardini italiani questo è un bel passaggino che adesso vedremo Marco che affronterà questa uscita la vedrei che è quella che accenderà in fondo eccolo sta uscendo qui questa paretina che vogliamo vedere senza artificiale perché qua naturalmente quando gioco si fa duro bisogna vedere la gente che arrampica sul granito è la magnissima ai nude vi dico a 2.100 metri siamo a 2.100 metri vento già di quota sentite il fischio ecco grandi passaggi aerei bellissimo sulla lama perfetto grande con scioltezza eccolo qua fantastico 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 grazie a tutti